Rischia fino a 15 anni di carcere. L'uomo che giovedì sera nella zona di Castello Pandone ha piccato l'incendio che in due giorni ha divorato 80 ettari di vegetazione. Sul tavolo del procuratore di Isernia è arrivata la relazione dei carabinieri forestali che hanno denunciato il 50enne per incendio boschivo aggravato e distruzione di bellezze naturali. Per quest'ultimo reato l'ammenda prevista è fino a 6.000 euro. I danni provocati dal rogo in realtà sono ingentissimi. Nella zona adiacente al castello, simbolo di Venafro, le fiamme hanno incenerito vegetazione mediterranea. Solo per l'abilità e la tempestività dei soccorsi, a terra con le squadre dei vigili del fuoco e dall'alto con un canadeire e l'elicottero della regione, il rogo ha solo sfiorato alcune case. Ma poi, alimentato dal vento, l'incendio ha risalito la china di Monte Santa Croce e procedendo verso Sesto Campano ha distrutto sei ettari del Parco dell'Ulivo, una zona protetta e di alto valore ambientalistico dove sono andati distrutti alberi secolari, anche questi un vanto della città dell'olio. I carabinieri sono risaliti al presunto autore dell'incendio sia perché è stato individuato il punto preciso dell'innesco dal quale le fiamme si sono propagate e da questo, attraverso le testimonianze e la collaborazione di alcuni cittadini, è stata confermata la presenza del 50enne proprio in quel punto, nell'ora esatta in cui è divampato il fuoco. L'uomo è stato denunciato in regime di libertà alla procura che ha aperto un fascicolo e dovrà ora rimettere a posto gli elementi raccolti dai carabinieri forestali nelle prossime ore. Il presunto piromane potrebbe essere ascoltato in procura se l'autore dell'incendio è lui, si è cacciato in un brutto, bruttissimo guaio.